La porta sbatté. Qualcosa cadde. Il gatto iniziò a strillare. È arrivato, pensò a Xenia, proprio come suo padre. Lo stesso festaiolo erissoso. Oh oh oh! Sarebbe meglio se si sposasse, e in fretta. Kiss kiss! Scusa, micetto! Una voce femminile sottile, quasi infantile. Ha portato qualcuno, eh? Si è proprio degradato. Ora porta a casa le sue. Oh oh oh! Dovrei andare a vedere. Ma poi urlerà e si metterà anche a litigare. Lascia perdere. La donna fece finta di dormire. Silenzio. Vieni qui. Lì dorme mia madre. Non avere paura. È normale. Dai! Lascia stare il gatto. Su! La mattina dopo lei vide la sua ospite notturna. Una ragazzina pensò la madre. Dove guardano i suoi genitori? Valerige. È ancora una bambina? Il figlio si scrollò di dosso l'acqua, lavandosi con l'acqua fredda. Sbuffava, gemeva. La ragazza sedeva spaventata su uno sgabello, con le mani sottili sulle ginocchia affilate. Madre! Questa è Nina, mia moglie. Vivremo insieme, te l'ho detto. Dalle il tuo accappatoio. Quanti anni hai, tesoro? Diciassette. La ragazza sussurrò appena. Si avvicinò di nuovo al figlio. Valerige. Ma cosa stai facendo? È ancora una bambina? Una bambina? Disse Valerige. Come può essere una bambina una madre? Sa cose che tu nemmeno puoi immaginare. E scoppiò a ridere. Così la signora Axinia divenne suocera. Valerige sembrava essersi calmato. Trovò lavoro. Smise di bere. Tornava a casa in orario. Nina non aveva vestiti. Proprio nessuno. Andarono a fare shopping e comprarono qualcosa. E poi Axinia aveva delle cose. Vestirono la ragazza. Non era male, anche se non una bellezza. La madre non chiedeva da dove venisse. Solo se i suoi genitori sapessero dove stava vivendo ora. Lei disse che non aveva genitori. E abbassò la testa. La madre decise di non interferire. Valerige sembrava aver preso in mano la sua vita. Portava a casa soldi, cibo. E Nina trovò lavoro come distributrice nella mensa. Ma tutto si sistemò. Chi non ha fatto sciocchezze da giovane, pensava la madre. E Nina era una brava ragazza, tranquilla, solo molto timorosa. Ma si sarebbe abituata. Così vissero. I giovani non litigavano. Solo qualche volta Valerige alzava la voce. Ma per il resto c'era silenzio. La madre era felice, aspettando i nipoti in silenzio. Un giorno qualcuno bussò alla porta. La donna andò ad aprire. Sulla soglia c'era una vecchia. Antica, grigia, rugosa, con le mani e il viso marroni come una mela cotta. Buongiorno a voi. Buongiorno, disse Axinia. Eh, avete trovato la bontà. Le brave persone hanno trovato l'indirizzo. E mi hanno detto. Posso entrare? Perché siamo stanchi. Oh, vecchi e giovani. E solo ora Axinia notò che la vecchia non era sola. Dietro di lei si nascondeva un piccolo ragazzo di circa due anni. Pallido, magro, capelli biondi, tagliati accuratamente in stile Kersh. Entra, la donna si fece da parte. Non capendo nulla, seguì gli ospiti. Dove è Nina? Ha detto qualcosa. La nonna, mi sistemerò e prenderò Y-Yegor. E sono quasi sei mesi che non abbiamo notizie. Io sono già diventata vecchia. Il ragazzo mi dispiace. A chi interessa? Nina è cresciuta senza la madre e il padre. Sono stata io a crescerla. Era una brava ragazza. O qualcuno l'ha corrotta. O chissà cosa, si è rovinata. E poi ecco, mi ha portato Y-Yegor. Beh, sembrava si fosse calmata. Eh. E poi di nuovo guai a non finire. Non ce la faccio. Prendetevi il ragazzo. Ma dove dovrei portarlo? E dove dovrei andare io? È figlio di Nina. Ed è ora che io muoia. Vedo che sei una brava donna. Allora prendilo. Prendilo. Io me ne andrò. La vecchietta si affrettò verso la porta. Nonna? Piangeva il ragazzo. Nonna? Va bene. Y-Yegor? Va bene. Mio tesoro? Adesso? Adesso la mamma verrà. Ma è ora per la nonna? È ora. Vivete bene. Qui ci sono i documenti e le cose di Y-Yegor. Il primo ad arrivare fu Valerij, seguito da Nina. Mamma, ho portato del maiale. Forse lo facciamo arrostire fresco? Axi Nia si alzò in silenzio e andò in cucina. Mamma, chi dorme lì? Y-Yegor. Che Y-Yegor? Chiedilo alla tua Nina. Nina, cos'è questo? Nina si rannicchiò, seduta guardando il pavimento. Il piccolo si svegliò e pianse, ma vedendo la madre corse da lei. Lei lo abbracciò, lo strinse a sé, poi si alzò e si diresse verso la porta. Dove vai? Chiesero insieme Valerij e la madre. Me ne vado. Noi andiamo. Dove? Valerij era sbalordito, guardando sua moglie. Me ne vado, Valerij. Grazie di tutto. E a te? Si a Axi Nia. Noi andremo con Y-Yegor. Siediti. Ti ho detto di sederti. Valerij si alzò minacciosamente. Nina si rannicchiò. Parlarono tutti e tre. Nina raccontò che il padre di Y-Yegor l'aveva lasciata incinta. Viveva con la nonna. Incontrò Valerij e non ebbe il coraggio di dirgli della presenza del bambino. Non c'è nulla da fare. Dove possiamo portare il piccolo? Axi Nia non interferiva con i giovani. Si arrangiavano da soli. Solo che la donna iniziò a notare. Sembrava che Nina fosse più spesso in lacrime. E Valerij sembrava più arrabbiato. E iniziò a trattenersi al lavoro più a lungo. A volte non tornava nemmeno a casa per la notte. La madre non interferiva. Perché avrebbe dovuto? Come diceva il suocero, bisogna educare fin che stanno trasversali sulla panca. E ora che fare? Se la sbrighieranno da soli. Un giorno Valerij disse, evitando lo sguardo, madre, io e Nina ci stiamo separando. Come sarebbe a dire? Ho incontrato un'altra. Ma non si può comandare al cuore. È così. E la ragazza dove andrà? Sai che non ha nessun posto dove andare. Cosa dire? Axinia si era abituata a vivere una vita tranquilla. Si era rilassata e si era affezionata anche al piccolo Yegor. Non importa che non fosse suo, si era affezionata con l'anima. E anche il bambino si era affezionato a lei. Nonna e basta. Era quello che volevo chiederti. Nina può stare un po' con noi. Io comunque andrò dalla mia. Ma con lei non funziona. Non posso. Lascia che resti. Nina chiede a Axinia. E tu? Hai qualche titolo di studio? Solo la scuola. E come farai a vivere, ragazza? Si alza di spalle e gli occhi pieni di lacrime. Ecco cosa. Vai a studiare. Ma come? Devo lavorare. Lavora e studia. La manda a scuola serale. Lei stessa aiuta con Yegor. Non prendono il bambino all'asilo. Si ammala spesso. Così Axinia inizia a occuparsi di lui da sola. Nina dà lavoro alla scuola serale. La ragazza tace. Ha paura che Axinia la cacci. E lei non ha dove andare. La nonna è morta. E la casa è passata al figlio della nonna. Dove può andare? E ogni giorno Axinia prega che Nina non decida di andarsene da nessuna parte. E che non porti via Yegor. Vivono. Valerio a volte viene. Lascia dei soldi per il cibo. Tratta Nina come una sorella. Yegor lo chiama zio Valerio. E lui vizia il ragazzo. Gli ha regalato un mucchio di macchinine. Valerio cresce anche due figli non suoi. Una volta è venuto con la moglie. Non è piaciuta alla madre. Rumorosa. Urlatrice. Come un uccello predatore. Era ovunque. Era troppo. Gesticolava con le mani. Cercava di fare qualcosa. Ha iniziato subito a fare la mamma. Non è che Axinia fosse dispiaciuta. No. Semplicemente capì che avrebbe voluto che Nina la chiamasse madre. Nina continua a lavorare nella sua mensa. È stata promossa da commessa a cuoca. È duro. Vero. Nina. Chiede Axinia. Va bene. E sorride con il suo sorriso tranquillo. Axinia inizia a parlare della sua vita. Come fu data in sposa dal padre e dalla matrigna a un uomo che non amava. Come beveva e faceva baldoria. Scappava con il piccolo Valerio tra bagni e capanne per nascondersi. Poi il signore ebbe pietà. Se ne andò. Andò da un'altra. Veniva da lei per abitudine. Ma lei prese coraggio. Si lamentò con il poliziotto. Lui le suggerì di trasferirsi. Qui. La madre aveva una piccola casa qui. Così lei e Valerio si trasferirono. Iniziò a lavorare in fabbrica. avvolgitrice. Valerio a scuola. Era bravo. Ma i geni del padre, evidentemente, si fecero sentire. Persino il poliziotto aveva paura del padre di Valerio. Ecco perché suggerì di trasferirsi lontano dal peccato. Valerio andò all'esercito. Tornò e iniziò a far baldoria. Poi il signore ti ha mandato. Con te si è calmato. Nina arrossisce. Yegor si stringe alla nonna. Sono nata da mia madre senza padre. La mia nonnina era la mia bisnonna. Lei cresceva mia madre. La nonna vive da qualche parte. Alla sua famiglia. Mia madre lasciò mia madre a sua madre. Mia madre se ne andò presto. Io e la nonna rimanemmo da sole. Mi sono messa con cattive compagnie. Volevo sembrare tosta per essere accettata come una di loro. È vergognoso ricordarlo. Ho incontrato Valerio. Mi sono aggrappata a lui. Era adulto. Bello. Pensavo fosse un'opportunità. Ogni giorno volevo raccontargli di Yegor. Ma avevo paura. Mi sono riscaldata vicino a te. Pensavo di raccontarlo più tardi. Almeno per un po'. Volevo sentire come vivere con una madre. Oh, ragazza. Piangono due donne. Una che ha vissuto una vita, l'altra che sta solo iniziando. Non inventare. Nina. Non vi lascerò andare da nessuna parte. Voi siete miei. Miei. Sia tu che Yegor. Valerio arriva. E la madre. Agitandosi per le marachelle del padre. Vigila affinché Nina non venga trattata come una tata. Non guardare al passato. È passato. Ora sei come una parente. Mamma, dice Valerio, volevo chiederti. Il padre, il mio. Dicono che è molto malato. Chiede che andiamo da lui. Tu che ne pensi? Penso che dobbiamo andare. È pur sempre il padre. Allora vai. E tu? Mamma? Ne vale la pena? E lei va. Il vecchio è diventato magro. Tutto consumato. È in ospedale. Vede il figlio con l'ex moglie. Piange. Dove è la tua cara? E i bambini? Oh oh oh. Piange. Non è venuta nemmeno una volta. I bambini sono suoi. Non ho nessuno tranne voi e Valerio. Cosa fare? Lo portano a casa loro. Se ne prendono cura con Nina. Valerio arriva. Porta cibo e medicinali. Si è un po' allontanato. Piange. Chiede perdono. Lascia perdere. Vivi quello che ti resta. Il nipotino, Yegor, inizialmente era diffidente. Ma poi si è abituato anche lui. Chiacchiera col nonno. Vivono. Nina. Che ne diresti di iscriverti all'università? Eh? Ma cosa? Come? Si sono lasciati convincere. Si è iscritta. Oh, studia di giorno e lavora di sera. Yegor è andato a scuola. A Valerio è nato un figlio. Sembra che la vita si stia sistemando. Una cosa preoccupa Axinia. Nina è sempre sola. Inizia a parlare, ma lei la respinge. Non ho bisogno di nessuno. Ho Yegor e voi. Questa è la mia famiglia. La ragazza si è fatta valere. È diventata così carina. Axinia ne è orgogliosa. Ma è sempre sola. Il nipote Yegor la rende felice. I figli maggiori di Valerio, che non sono di sangue di Axinia, corrono anche loro dalla nonna. Tutti sono benvenuti. Michael, l'ex marito, il padre di Valerio, si è anche ripreso. Fa cose in casa. Si occupa dei nipotini. Chiede sempre perdono ad Axinia e a suo figlio. Nina è diventata capo della produzione. Poi, boom, dei colpi di scena. Che cos'è? Come capirlo? La gente piange. Non ci sono soldi. Non c'è niente da mangiare. E in tv solo accuse. Tutto ciò che era buono è diventato cattivo. Non pagano le pensioni. Nemmeno gli stipendi. I bambini sono bravi. Valerio, Nina e Ludmila. Non c'è nulla da condividere. Si sono uniti e hanno iniziato a importare merci dall'estero. E tutti i ragazzi sono con Axinia e Michael. Axinia prega Dio di darle ancora vita. Per crescere i nipoti. Per aiutare i bambini. Ha già dimenticato che Nina non è di sangue. Che una volta era la moglie di Valerio. E nemmeno Valerio e Ludmila se ne ricordano ormai. Vengono, stanchi e provati. Dormono un paio d'odore e poi si affannano al mercato. Ma almeno non hanno fame. Axinia e il nonno sono vestiti con abiti stranieri. Ma a che servono? Per i bambini, certo. Ma loro stessi vorrebbero vivere un po'. Al nonno piacciono le varie chioccolatine. È goloso. Si siede a bere il tè, taglia la cioccolata sul piattino e beve. Sembra un gatto che chiude gli occhi al sole di marzo. Oh, come sei bella, Axinia. Perdonami, vecchio stupido, per come ti ho trattata. Valà, cosa c'è da dire? Lei fa un gesto con la mano e si arrossa tutta. E i bambini hanno già messo su una bancarella al mercato. Poi hanno trovato anche un posto per un negozio. Ed ecco che alla loro compagnia si è unito Nicolai. Nicolai è bravo. È il fratello di Ludmila, la moglie di Valerio. Tutti parenti, insomma. Dice la madre. Nina, Nicolai non toglie gli occhi da te. E ama anche Iegor. Lei la respinge. Ma che dici, mamma? Sono in debito con mio figlio. L'ho abbandonato allora. Axinia alza le mani dalla gioia di essere chiamata mamma. Il cuore le batte in gola. Figlia mia, Nina, chi non ha fatto errori da giovane? I ragazzi ormai non vanno più a cercare la merce da soli. Non trasportano più i pacchi. Hanno trovato dei fornitori. Hanno fatto un viaggio in Turchia. Wow! Li hanno concordato le forniture. Hanno aperto un negozio più grande. La madre è felice. Il cuore è tranquillo. E poi una novità. La nonna di Nina, quella che aveva abbandonato sua madre alla sua madre, si è fatta viva. Io sono tua nonna. Sono la tua famiglia. E anche lo zio, che aveva lasciato Nina senza una casa quando la nonna è morta, cerca di farsi accettare come parente. Ma Nina si è indurita. Ha mostrato loro la porta. Ho la mia famiglia? Dice. Michael è invecchiato. Ma Axinia sta bene. Prega solo Dio di non portarsi via il povero Michael troppo presto. Senza quel vecchio scioccole sarebbe noioso. Nina alla fine cede sotto la pressione di Nicolai. Non resiste. Tutto va bene per i bambini. E i nipoti sono cresciuti a mucchi. Hanno fatto tutti strada. E noi, vecchio, è ora di riposarci, dice Axinia. Michael agita la sua calva bianca. Tiene la mano di Axinia con la sua mano macchiata di marrone. È ora, cara. Perdona tutto, Axinia. Mi hai dato calore nella vecchiaia. Sei come un raggio di sole. Perdona. Ti ho perdonato da tempo. Non lamentarti. Dai, dammi la mano. Tieni la più forte. Dobbiamo andare insieme nell'eternità. Vengono a ogni festa. Non dimenticano. Non piangono più. Una grande famiglia, quella di Axinia e Michael. Bambini, nipoti. C'è anche un pronipote. Hanno tutti dimenticato da tempo che Nina e Valerio non sono affatto fratello e sorella. Tutti ricordano Axinia con una buona parola. E i bambini anche il nonno Michael. Li amava tutti. Ecco le vicissitudini della vita, pensa Nina, tenendo in braccio il figlio della figlia maggiore della moglie di Valerio, il suo ex marito. Provaci a capire chi è parente di chi sorride tra sé Nina. Il marito di Nina, Nicolai, è il fratello naturale di Ludmila. Quindi Nina tiene in braccio il suo pronipote. Wow, soffia una brezza, dice la moglie di Yegor. Marina. È un buon segno. La nonna e il nonno ce l'hanno mandato. Sono felici che viviamo tutti insieme in pace. Ci sono persone che attraggono a sé come un magnete tutti coloro che sono offesi. Tutti coloro che hanno bisogno di protezione e cura. O semplicemente di una parola gentile. Ecco, la signora Axinia era così. Tutti erano attratti da lei e lei non ha respinto nessuno. Ha riscaldato e accolto tutti. Tutti avevano abbastanza del suo amore e della sua tenerezza. E della sua tenerezza. E della sua tenerezza.